Cari amici vicini e lontani, ve la ricordate questa merendina che ci faceva impazzire, si chiamava Urra Saiva? E questa cialda con crema all'interno e aveva cinque strati di cialda e cioccolata. Voi pensate che vendevano questa confezione e ce n'erano quattro? Beh, io ero capace di mangiarmele tutte e quattro, ero proprio golosa, non si è trovata più e è sparita nel 1990. Non sappiamo il perché. Io la riproporrei perché a me faceva proprio morire, ve la ricordate? Adesso vi racconto la storia di questa Urra Saiva. C'era una volta. Ed ecco la storia del biscotto Waffer, più amato secondo me dal mondo. La storia della società inizia nel 1900 quando Pietro Marchese aprì in via Galata a Genova una pasticceria dove produrre dei dolci scoperti in un suo viaggio in Inghilterra. I Sugar Waffer. La piccola azienda crebbe col tempo arrivando a essere una delle prime industrie dolciarie italiane. Nel 1920 viene registrata come Saiva. Il nome della società, pensate, venne coniato da Gabriele D'Annunzio. Fra le due guerre conquista comunque il primo posto come industria dolciaria in Italia. Infatti era proprio al bacio. Nel 1942 la fabbrica viene ricostruita dopo i bombardamenti e oltre all'aggiunta di nuovi forni vengono costruite le prime macchine confezionatrici che resero la Saiva la prima azienda in Italia a distribuire i biscotti confezionati. Nel 1965 la Saiva passa sotto il controllo dell'Anabisco, una multinazionale statunitense. Saiva è tra le prime aziende a investire nella pianificazione televisiva creando così dei caroselli tra i più celebri con protagonisti personaggi noti come Sandra Mondaini, Ninetto Davoli, i caroselli di colto come il trenino di Urrà e il Pasoliniano con Ninetto Davoli. Insomma, volete insieme a me che questi Urrà, Saiva magari, possano riprodurli? Ci ricordetemi di quando eravamo ragazzini. Rivoglio gli Urrà, Saiva! Un bacio, un caldo abbraccio dalla figlia dell'amore. C'era una volta!